Nell'ultimo anno abbiamo lavorato su questo documento che è uno strumento che vogliamo mettere a disposizione delle scuole paritarie, delle diocesi, delle comunità locali per riflettere insieme e aprirsi alla lettura dei segni dei tempi per poter fare un confronto e un discernimento aperto al cambiamento che la realtà chiede senza timore ma con realismo anche per arrivare a programmare il futuro, a prendere decisioni per tempo facendolo insieme non da soli ma collaborando a livello locale tra scuole, con le diocesi, con le parrocchie in modo tale che ciascuno non stia solo di fronte anche alle difficoltà che si possono incontrare nella scuola oggi.